va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica buona giornata a tutti voi da massimiliano spiriticchio in studio natasha alla parte tecnica e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne ammontano a circa 500 mila euro le risorse che il governo nazionale ha messo a disposizione della regione abruzzo per finanziare l'attività dei centri antiviolenze delle case rifugio il dato è stato comunicato ieri dall'assessore regionale alle politiche sociali piero fioretti ai rappresentanti delle strutture regionali che offrono assistenza alle donne vittime di violenza convocati per affrontare una serie di problemi legati al potenziamento della rete di assistenza sul territorio è un servizio che la regione vuole mantenere potenziare sul territorio perché in gioco ci sono le vite di tante donne vittime di violenza e costrizioni ha detto fioretti in abruzzo operano 13 centri antiviolenze e tre case rifugio che garantiscono l'assistenza e supporto alle donne in difficoltà la ripartizione del fondo nazionale ha tenuto conto della popolazione residente e del numero delle strutture e la quota di circa 500 mila euro pone l'abruzzo tra le regioni che hanno ricevuto il contributo più alto ma i centri antiviolenze le case rifugio sono chiamati a gestire organizzare e allestire progetti speciali che saranno finanziati con il fondo straordinario del governo di 10 milioni di euro su questo fondo la regione abruzzo potrà contare su un contributo di 250 mila euro che saranno forniti solo dopo che i centri antiviolenze le case rifugio avranno presentato progetti definiti la giunta regionale riunita ieri pomeriggio a pescara su proposta del presidente marco marsilio ha deliberato il conferimento di due distinti mandati al professor nicola pisani in relazione ai procedimenti giudiziari relativi alla vicenda di rigopiano il primo mandato riguarda la costituzione di parte civile nome per conto della regione abruzzo per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti all'immagine al patrimonio dell'ente ed imputabili a quanti il tribunale dovesse riconoscere responsabili il secondo è un mandato difensivo a sostegno della regione abruzzo nel procedimento penale pendente dinanzi al tribunale penale di pescara nell'ambito del quale l'amministrazione è stata citata quale responsabile civile in relazione ai danni conseguenti al crollo dell'hotel rigopiano e nei giudizi pendenti davanti al tribunale di l'aquila la giunta regionale ha anche approvato lo schema di convenzione con il ministero della difesa per lo svolgimento delle attività di trasfusione nelle maxi emergenze disco verde anche per lo schema di convenzione tra le strutture pubbliche che hanno servizi trasfusionali e quelle pubbliche private accreditate e non accreditate che non hanno gli stessi servizi per la fornitura di sangue e sui prodotti di prestazioni di medicina trasfusionale la giunta ha approvato il programma di autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020 che riguarda il documento di programmazione monitoraggio e controllo delle società delle attività associative e di raccolta la giunta ha poi deliberato un atto di indirizzo per il potenziamento della promozione della commercializzazione del marchio abruzzo nei mercati di riferimento che possono essere collegate alle rotte aeree nazionali ed internazionali nello specifico si tratta di un bando per un importo totale di un milione e mezzo di euro che prevede quattro azioni rivolte al mercato italiano a quello tedesco austriaco svizzero a quello francese e a quello infine la giunta con il controllo di legittimità degli atti previsto dalla legge ha dato il placet all'adozione del bilancio preventivo economico annuale e pluriannale 2020-2022 dell'istituto zoo profilattico sperimentare dell'abruzzo del molise caporale di teramo è stata approvata in consiglio regionale tra le proteste di minoranza e lavoratori con i soli voti della maggioranza quindi 15 consiglieri la norma che prevede l'estinzione della fondazione ciapi il centro interaziendale addestramento professionale industria al momento del voto i consiglieri del centro sinistra e del movimento 5 stelle hanno abbandonato l'aula per cercare di non far raggiungere il numero legale che però c'era la legge prevede la nomina di un commissario esterno entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento ancora nessuna novità per lorenzo di berardino lo studente di 22 anni pescarese bloccato a wuhan in cina epicentro della male dell'epidemia di coronavirus che sta facendo tremare il mondo intero lorenzo sarebbe dovuto rientrare ieri in italia invece è ancora blindato dentro un campus universitario in attesa di sapere quando potrà finalmente ripartire la sua vicenda va avanti da giorni per lui e per gli altri italiani in tutta una cinquantina ora presenti nella città focolaio della malattia e in tutta la regione di ubei la farnesina cioè il nostro ministero degli esteri ha già fatto sapere di aver predisposto un piano di rientro se e quando sarà attuato non è però ben chiaro perché la prospettiva non trova tutti d'accordo il piano prevederebbe infatti un trasporto in autobus a changsha capitale della provincia dello wuhan a circa 350 chilometri di distanza da wuhan arrivati qui lo studente pescarese gli altri italiani sarebbero trasferiti in un ospedale per un periodo di osservazione di due settimane il tempo necessario per il decorso dell'incubazione del virus trascorsi 14 giorni potrebbero partire sempre però dopo aver ottenuto il via libera delle autorità cinesi e intanto sulla situazione della a 14 e in particolare del viadotto del cerrano si attende da una parte che autostrade per l'italia depositi cosa che dovrebbe avvenire tra oggi e domani l'istanza di dissequestro al giudice per le indagini preliminari della procura della repubblica di avellino con una documentazione attestante il fatto che si è ottemperato a quanto il giudice aveva chiesto per mettere in sicurezza quel tratto autostradale e appunto si attende anche la risposta dello stesso gip dall'altra la regione abruzzo con un voto in consiglio regionale ha chiesto lo stato di emergenza al governo nazionale anche se le opposizioni fanno notare che questo potrebbe essere un atto inutile perché appunto nei prossimi giorni potrebbe arrivare il dissequestro sono due le vasche disposte lungo il litorale sud che andranno sottoposte a ripascimento la prima è quella che versa in condizioni più critiche e comprende gli stabilimenti balneari il corallo seconda ruota intorno allo stabilimento il nuovo tramonto che presenta una situazione difficile ora gli uffici predisporranno subito il progetto che presenteremo in regione per l'erogazione cioè la fornitura delle disponibilità economiche utili per l'avvio della gara d'appalto lo ha detto l'assessore all'ambiente al demanio del comune di pescare sabella del trecco al termine del sopralluogo svolto sulla riviera sud di pescara la provincia di pescara ha colto positivamente la richiesta di alcuni studenti del liceo classico d'annunzio per limitare l'uso della plastica da ieri mattina sono stati installati tre erogatori d'acqua cioè tre fornitori d'acqua filtrata per l'eliminazione del cloro con l'abolizione delle bottigliette di plastica da tutti i distributori inoltre la provincia ha provveduto a distribuire gratis mille borracce in alluminio a tutti gli studenti dello storico liceo pescarese sulle borracce è stato stampato il logo della provincia stessa per poter riempire le borracce sarà possibile dotarsi di una scheda plastificata tipo bancomat ricaricabile è un primo passo concreto ha sottolineato il presidente della provincia di pescara antonio zaffiri per l'eliminazione della plastica nelle scuole pescaresi oggi è mercoledì 29 gennaio e la direzione la redazione la regia e tutti i collaboratori di radio speranza augurano buon compleanno a don francesco santuccione e siamo alle previsioni del tempo oggi su pescare provincia si prevedono cielo molto nuvoloso fino a metà pomeriggio e sereno nel resto della giornata con temperature da 8 a 16 gradi sulla costa e da 10 a 13 gradi nelle zone interne venti da deboli e moderati sulla costa e moderati nelle zone interne il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso con queste previsioni del tempo noi ci salutiamo da massimiliano spiriticchio in studio natascia regia e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne grazie e risentirci abbiamo trasmesso radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica della chiesa grazie a tutti